ma questa sera ragazzi questo devi assolutamente metterlo mi scaricherò tinder e sarà il miglior rebuild post workout ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi stiamo andando al mare in particolare a Sestir Levante per allenarci con gli altri ragazzi della squadra e speriamo di prendere anche un po' di caldo visto che dalle nostre parti è sempre abbastanza freddo vi ricordo di iscrivervi al canale a voi non costa nulla e a noi ci supportate tantissimo e noi ci vediamo direttamente a Sestir Levante ovviamente che ti offre? io ci arrivati allora presentati primo piano primo piano la barba ok sono Fantino e Andrea sono un compagno di squadra dei due Jacobins ottimo però io ho gli occhiali Quay Shark e loro no quindi già siamo a e le calze rosse specialize e quindi siamo già quanti watt in più le calze? watt sono indecifrabili però i secondi in discesa volano no ma voi non avete idea ragazzi e qua abbiamo il boss è il Frank sono l'ultimo arrivato i compagni di squadra dei pro rider e oggi gli faremo vedere questa nuova oggi fate la guida Francesco oggi faccio la guida anche perché sto diventando una guida se siete interessati contattate per noi è la prima volta che veniamo qua a girare a Sestri infatti vi lasciamo spiegare un attimo da Fran Marchese la guida federale yeah ragazzi oggi fatevi un giro turistico dove stiamo andando? stiamo andando arriva a Trigoso a fare il Tour Iun pista storica Ligure anzi notare quelle macchie nere in mezzo al mare allevamento di Branzino e Doc Ligure a fare il Oh Finita qua Bella cazzo Prima discesa andata Siamo in tre, partiamo in quattro, prima vittima di giornata Purtroppo mio fratello ha avuto un problema con la ruota, adesso è andato a sistemare la macchina Noi intanto facciamo un'altra discesa che A quanto pare dovrebbe essere un pochettino più slow Comunque posti veramente da paura, bellissimo. Poi giornata pazzesca, un caldo Nella miseria Bellissimo Ti seguo, ti seguo Bella Wow Eeeh Basta Bastarda sta curva Andre l'abbiamo perso Bella Eh, ho dato due entrate Eccoci, un uomo affranto E si riparte Questa volta tutti e quattro Direzione PS Sant'Anna Sant'Anna Questa cosa ti scettino Io raga non voglio più tornare a casa Noi Eh, ho dato due Per questo Bella Ehm Bella Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Grazie a tutti.